Condanna definitiva emessa dai giudici della Corte di Cassazione, il 42enne gelese Fabio Greco dovrà scontare 18 anni di carcere per aver ucciso il 23 agosto del 2012 la madre adottiva Yolanda di Natale, 73 anni, respinto il ricorso presentato dalla legale di fiducia dell'uomo l'avvocato Giacomo Ventura. Nell'ottobre di due anni dietro la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta emessa identica condanna dopo che il giudice delle udienze preliminari in primo grado aveva dichiarato Greco non imputabile imponendogli comunque il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo di 15 anni. In appello però tutto venne ribaltato a seguito di una nuova perizia. Secondo quanto stabilito dai periti Fabio Greco che all'epoca dei fatti aveva 38 anni avrebbe lucidamente ucciso la madre adottiva all'interno del loro appartamento di via Cocchiara. La massacrò senza pietà accadendosi contro di lei e sfigurandole il volto fino a renderla irriconoscibile. Utilizzò qualsiasi oggetto le capitasse tra le mani, un coltello da cucina, una statuetta in marmo, una sedia in legno, un quadro. Come in un film horror inoltre utilizzò anche uno spillo conficcando glielo negli occhi e nelle guance. L'imputato rispondeva anche dal tentato omicidio del carabiniere Giuseppe Emanuello. Il militare dell'arma infatti intervenuto nel tentativo di disarmare l'uomo venne più volte colpito con una lama. Sia i familiari di Yolanda di Natale sia il carabiniere si sono costituiti parte civile con l'avvocato Flavio Sinatra. La difesa del 42enne ha sempre puntato sul suo stato psichico precario. In base alla ricostruzione dell'avvocato Giacomo Ventura, supportato da una serie di perizie, Greco avrebbe agito perché affetto da disturbi schizzoidei. Una linea accolta dal GUP in primo grado ma esclusa, come dicevamo, in appello davanti ai giudici della Corte d'Assise Nissena. In Cassazione anche la Procura Generale ha chiesto la conferma della condanna.